Aperto al traffico un nuovo tratto della strada statale 117, la cosiddetta centrale Sicula Gela-Santo Stefano di Camastra. I lavori di ammodernamento e sistemazione hanno riguardato il lotto A4, nel tratto che collega i comuni di Mistretta e Reitano all'altezza del chilometro 10. Sul nuovo tratto è stata realizzata una galleria artificiale di 70 metri, denominata Valle dei Nebrodi. L'importo complessivo dell'intervento si aggira intorno ai 7 milioni di euro. A benedire la nuova galleria il parroco di Mistretta Michele Giordano, presenti i sindaci di Reitano Salvatore Villardita e di Mistretta Liborio Porracciolo. Ad inaugurare il nuovo tratto il direttore regionale dell'ANAS Salvatore Tonti. L'intervento, seppur ridotto, risolve questa questione e oggi consegniamo 300 metri di strada più sicura e in ottima condizione. Oltre la galleria artificiale, in direzione nord verso il comune di Reitano è stato realizzato un allargamento dell'ultima campata del viadotto Pianesi e in direzione sud verso Mistretta un nuovo tratto stradale rilevato.